Ben trovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione su TRM H24. In primo piano la cronaca, questa mattina a Casarano Nell'Eccese è stato ucciso il 33enne Amin Antonio Afendi, colpito da tre colpi di pistola a pochi metri dal municipio in piazza San Domenico. E' stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola il 30enne Antonio Amin Afendi, pregiudicato di origini marocchine, residente a Casarano Nell'Eccese, dove sabato mattina è stato vittima di un agguato. E' probabile che il 30enne conoscesse il killer che lo ha raggiunto a bordo di un'auto in via Lupo a pochi metri dal municipio in piazza San Domenico. Il 30enne si sarebbe avvicinato all'auto da cui è partito un primo colpo di pistola. Il killer sarebbe poi sceso dal lato passeggero sparando altri due colpi. Afendi era il compagno della vedua del boss della Sacra Corona Unita, Agustino Potenza, ucciso nell'ottobre del 2016 nel parcheggio di un supermercato a Casarano. Per gli investigatori il 30enne sarebbe stato il suo successore. Già il 25 ottobre del 2019 Afendi fu vittima di un agguato a colpi di Kalashnikov. Riuscì a mettersi in salvo uscendo dal lato passeggero dell'auto a bordo della quale si trovava e rimase gravemente ferito. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire al responsabile della sua morte. Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti anche il magistrato di turno Giovanna Canarile e il procuratore facente funzioni Guglielmo Cataldi della DDA. La prefettura, subito dopo l'omicidio, ha convocato una riunione tecnica di coordinamento con i vertici delle forze dell'ordine, all'esito della quale è stato disposto un ulteriore innalzamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, assicurati da parte di tutte le forze di polizia. Indagine posto fisso. L'assessore ai trasporti della Regione Puglia, Anita Mauro Di Noia, sarebbe tra gli indagati. A rivelarlo per primo il quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno. Il nome dell'assessore ai trasporti della Regione Puglia, Anita Mauro Di Noia, era già saltato fuori dalle intercettazioni di Tommaso Lovreglio, nipote di Savino Parisi, ma ora comparirebbe anche nel registro degli indagati, nell'ambito dell'indagine denominata posto fisso. Lo ha rivelato la Gazzetta del Mezzogiorno. L'operazione, condotta dalla Procura di Bari nei giorni scorsi, ha portato all'arresto di 130 persone, rivelando così un sistema di voto di scambio politico mafioso che avrebbe interessato il Comune di Bari e alcune società partecipate, tra cui l'AMTAB che gestisce il trasporto cittadino. Dalle intercettazioni veniva fuori un presunto rapporto di conoscenza tra Lovreglio e l'assessora e suo marito, circostanza smentita però subito da Mauro Di Noia. La sua iscrizione nel registro degli indagati, rivela ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, risalirebbe addirittura al 2019, anno delle elezioni comunali a Bari. Accertamenti che sono stati finora tenuti segreti dalla Procura per evitare fughe di notizie. Secondo Il Quotidiano, lo stesso ex consigliere Giacomo Olivieri, indagato per voto di scambio anche in relazione all'elezione di sua moglie Maria Lorusso, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con uno pseudonimo. All'indomani delle elezioni comunali a Bari, l'assessora Anita Mauro Di Noia fu soprannominata alle di preferenze, essendo risultata la più votata, circostanza che si è ripetuta anche l'anno dopo in occasione delle elezioni regionali. A seguito della notizia, l'assessora ha intervenuto sulla questione con una nota stampa. Rispetterò ovviamente tutte le determinazioni degli organi inquirenti, consapevole della mia assoluta estraneità a qualsivoglia combin elettorale o illecito di qualsiasi tipo. Rappresento di non aver mai avuto in tutto questo tempo alcuna informazione di garanzia o notifica di qualsivoglia provvedimento giudiziario. Andiamo avanti con il nostro Tg primarie del centro-sinistra a Bari. Si sono confrontati questa mattina i due protagonisti, Michele Laforgia e Vito Leccese. Vediamo com'è andata. Tiene banco a Bari il tema delle primarie del centro-sinistra. Testa a testa sul punto tra i candidati proprio alle consultazioni primarie durante un confronto organizzato dalla Gazzetta del Mezzogiorno durante il quale Michele Laforgia ha sottolineato di essersi più volte espresso in passato con un parere contrario rispetto a tale metodo. Io credo di aver detto fin dall'inizio, non solo io, che le primarie non sono il metodo migliore per selezionare la classe dirigente e lo stiamo verificando in questi giorni, spiega Laforgia. Ho sempre detto e lo ribadisco che bisognava stare attenti al voto fai da te perché tutti sanno che a Bari c'è un fenomeno di mercato, di voti e di infiltrazioni della criminalità. Per questo non bisogna fare le primarie in senso tradizionale. E prosegue. Stiamo cercando di definire nuove regole e su questo c'è una discussione aperta. Devono essere consultazioni con regole certe che evitino la confusione che si è determinata in passato. Non ce lo possiamo permettere. Sul punto è poi intervenuto il suo competitor, Vito Leccese. Proprio nelle ultime ore ci sono stati avvicinamenti verso la soluzione unitaria, rimarcato. Noi difendiamo le ragioni di fare le primarie che siano veramente un momento di grande partecipazione, evitando i disagi ai cittadini. Abbiamo chiesto di fare le primarie in una cornice di massima trasparenza, però con grande distribuzione nel territorio. Abbiamo chiesto seggi in ogni municipio e in quelli più grandi almeno due seggi, proprio per consentire la massima partecipazione. Il candidato sostenuto dal PD ha poi aggiunto se ci sono pregiudizi sulle primarie vengano affrontati. Le primarie hanno sempre rappresentato il momento di scelta della classe dirigente del PD e dei rappresentanti istituzionali. Oggi, a concluso, operiamo in un contesto particolare. Dobbiamo usare tutti gli anticorpi per evitare il condizionamento del voto. Detto questo, non possiamo isolarci. Ad accomunare il pensiero dei due candidati, poi la volontà di emarginare i portatori di voti della coalizione del centro-sinistra Bari. Non bisogna rivolgersi ai portatori di voti, ha detto la Forgia, rispondendo a una domanda sulla necessità di assumere l'impegno per non fare intese con questi ultimi. Per quello che mi riguarda non ho niente da scambiare, non ho niente da offrire e per certi versi non ho niente da chiedere. Dovremmo stare attenti a coloro che storicamente sono stati portatori di voti, a condiviso Leccese, che si sono prestati a pratiche di questo tipo. Per quello che mi riguarda, i portatori di voti vanno emarginati, allontanati dalla coalizione, perché quello che vogliamo è ispirarci al concetto della legalità. Un consiglio intercomunale a Gravina per ribadire la contrarietà alla localizzazione del deposito nazionale unico dei rifiuti radioattivi nei territori di Puglia e Basilicata. Si è tenuto a Gravina in Puglia un consiglio intercomunale monotematico per ribadire la netta contrarietà alla localizzazione del deposito nazionale unico dei rifiuti radioattivi e parco tecnologico nei territori di Puglia e Basilicata. I rappresentanti istituzionali dei comuni di Gravina, Altamura, La Terza, Matera, Santeramo in Colle, Poggiorsini e Irsina hanno approvato un ordine del giorno che impegna i sindaci e le giunte a rendersi parte attiva nella tutela dei territori dell'Alta Murgia e della Murgia materana. Ho voluto convocare tutti i sindaci perché è un problema territoriale perché le ricadute negative ricadranno su tutto il territorio quindi noi oggi tutti all'unanimità abbiamo deliberato che questo territorio non è giusto, non è pronto, non è possibile visto che ci sono tutti i vincoli nazionali come il Parco dell'Alta Murgia, il Bosco di Fessa Grande, siti archeologici cioè territori già con tutti i limiti dovuti ambientalistici non può vivere anche questo quindi sarebbe una sciagura per tutti noi e sotto tutti i punti di vista che vanno dall'agricoltura al turismo rurale un disastro ambientale quindi voglio dire è un tema importante, serio. Inoltre i comuni si impegnano ad attuare tutte le iniziative possibili presso il Governo nazionale di concerto con le regioni Puglia e Basilicata con le quali il dialogo è già avviato per scongiurare questa possibilità Si conferma la sinergia fra enti e istituzioni come il Parco nazionale dell'Alta Murgia, la città metropolitana di Bari la provincia di Matera, i parlamentari e i consiglieri regionali del territorio Nel documento è ribadito che negli ultimi anni i comuni convocati hanno iniziato un percorso di sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile incentrato sulla promozione del patrimonio paesaggistico, storico, architettonico, archeologico e culturale per superare l'abbandono del passato e recuperare la centralità turistica La richiesta dunque è ben precisa escludere quelle proposte che interessano aree naturali protette e tutelate siti di interesse comunitario, aree definite dall'UNESCO patrimonio dell'umanità o che si apprestano a diventare tali oltre alle relative buffer zone, ossia tutti i territori circostanti Si è discusso di turismo delle radici a potenza durante un incontro promosso dal comitato regionale UMPLI Basilicata in collaborazione con Paesi e Radici ETS Il turismo delle radici e volontari della Proloco due temi apparentemente scissi ma in realtà in costante affinità perché è proprio grazie al contributo prezioso delle Proloco che vengono valorizzate tradizioni e peculiarità dei tanti borghi della Basilicata Paesi d'origine dei Lucani che vivono all'estero ma che sono rimasti legati alla loro terra sentimento che li porta a scegliere la Basilicata come meta turistica Si è discusso di questo al polo bibliotecario di Potenza durante un'iniziativa dal titolo Il turismo delle radici, giornata dedicata ai volontari Proloco promossa dal comitato regionale UMPLI Basilicata in collaborazione con Paesi e Radici ETS Il 2024 infatti è stato disegnato come l'anno del turismo delle radici e rappresenta un'occasione importante per valorizzare la domanda di viaggio verso l'Italia da parte dei connazionali del mondo un'attenzione particolare alla Basilicata che punta ad organizzarsi per intercettare e intraprendere questa nuova opportunità Il turismo delle radici che può sembrare un turismo di nicchie ma negli ultimi anni sta prendendo fortemente piede che coinvolge i cittadini di ritorno Si comincia con l'analisi, le indagini su internet ma poi si tramuta in un turismo reale cioè c'è la voglia di riscoprire i luoghi in cui i propri avi, i propri genitori, i propri nonni hanno vissuto Noi come Paesi e Radici abbiamo vinto il bando ministeriale per cui saremo protagonisti di quelle che saranno le attività che a livello nazionale verranno declinate qui sul territorio in Basilicata è un'opportunità importante perché come diceva sono tanti i lucani che sono andati via sono turisti che sono pronti a tornare qui e noi siamo pronti ad accoglierlo anche con la collaborazione del Proloco perché è importante questa declinazione locale del turismo perché loro non sono interessati a vedere le grandi città ma sono anche interessati soprattutto a vedere la terra dei loro antenati quindi anche i piccoli paesi Amatera 30 anni per Talia Teatro con una programmazione ad hoc questa mattina la presentazione del cartellone con tre amere schiandate e tre poveri cristi Talia Teatro festeggia il suo trentennale tre date 8, 9 e 10 di marzo al Teatro nel Sasso e chiusura di anno con Natale in Casa Cappiello versione materana del noto capolavoro di Edoardo De Filippo e cavallo di battaglia della compagnia che ha totalizzato in sette repliche 6.500 spettatori nel mezzo l'estate con una serie di spettacoli che vedranno come quinta scenica naturale i Sassi di Matera Abbiamo un programma folto in questo anno appunto per festeggiare questo trentennale cominciamo a marzo con tre amere schiandate et termine arcaico schiandate sarebbero tre poveri cristi per dirli con termini più moderni si tratta di tre atti unici due presi da Peppino De Filippo comici e uno, modestamente l'ho scritto io su Chietared un brigante, un falso brigante materano in modo da indurre la gente diciamo al sorriso per un verso ma anche alla commozione, alla riflessione soprattutto per un altro Io sono uno dei veterani, sono ormai da vent'anni però quello che posso dire è che ogni volta è un'emozione diversa e forte qui poi ci sono il nuovo ingresso giovani, invece loro sono da più tempo però credo che per tutti valga l'esperienza e l'emozione che il teatro ti dà Ecco, perché ha deciso di avvicinarsi a questa realtà teatrale? Beh, diciamo che il teatro è stato un po' da sempre la mia passione anche insomma da piccolo quando si gioca alla fine reciti quindi sì, ho voluto coltivare questa mia passione per il teatro e ho veramente riscoperto un altro mondo bellissimo Questa edizione del TG termina qui grazie per averci seguito Linea alla Regia